Ecco, questa è veramente una cosa incredibile, sapete perché? Perché loro stessi, come abbiamo sempre sospettato, si rendevano conto che gli esperti di cui si erano circondati, la gente, insomma, non era all'altezza, non erano capaci di gestire questa emergenza, eppure hanno continuato per tre anni e mezzo a raccontarci e ancora oggi continuano, vediamo la stampa, ancora oggi continuano a dire abbiamo fatto tutto il possibile, siamo stati i migliori. Partiamo dall'inchiesta sulla prima ondata della pandemia a Bergamo, c'è una cosa interessante che è il fatto che è riuscito a mettere le mani su una mail, su alcune mail, a dire la verità, che si scambiavano i dirigenti e i politici in quei giorni dal Ministero delle Regioni, nei primi giorni del 2020, c'è un passaggio importante, ovviamente c'è, loro aprono il giornale su questa mail che riguarda Regione Lombardia, perché il bersaglio è, sono Fontana e Gallera, il bersaglio del fatto, è come Wuhan, ma Fontana dice di tenere segreti i contagi, cosa che peraltro non mi stupisce perché fu rivendicata anche da Agostino Miozzo, cioè dice quando avevano un piano, una proiezione in realtà fatta da Stefano Merler che mostrava l'andamento dei contagi, l'aumento dei contagi che si doveva attendere e fu deciso di tenere lo segreto per non spaventare la popolazione. Quello che a me colpisce di più però è a pagina 3 del fatto, un articolo veramente incredibile in cui ci sono appunto gli scambi di mail all'interno del Ministero della Salute e il titolo dice tutto, pagina 3, non sanno l'inglese i documenti dell'OMS tradotti in ritardo, analizzando migliaia di documenti acquisiti al Ministero della Salute, i finanzieri della Procura di Bergamo hanno trovato un'email tra i funzionali della Prevenzione, che è un dipartimento del Ministero della Salute, quello che doveva occuparsi della gestione della pandemia e anche del famigerato piano pandemico, c'è questa mail con una richiesta di traduzione urgente dall'inglese all'italiano dei documenti allegati, viene mandata a una società di Cagliari e c'è questo sospetto, c'è che una certa difficoltà con l'inglese da parte dei funzionari del Ministero potrebbe spiegare perché alcuni dei provvedimenti ministeriali siano stati adottati diversi giorni dopo la pubblicazione da parte di l'OMS, cioè l'OMS mandava dei documenti, in Italia non li sapevano tradurre e quindi ci mettevano del tempo a metterli in pratica, in realtà abbiamo appreso poi dalle indagini che alcune personalità del Ministero, per esempio, questo è un caso incredibile che poi sarà valutato forse, vedremo in sede processuale, se verranno rinviati a giudizio, il responsabile di malattie infettive del Ministero, Francesco Paolo Maraglino, mi stavo confondendo con Maiorino, invece si chiama Francesco Paolo Maraglino, a un certo punto viene convocato con una email a una riunione del Centro Europeo per le Malattie Infettive in cui si parla di Covid e in cui si dirà in quella riunione tra l'altro che non vanno bene gli scanner termici negli aeroporti, non servono a niente, bisogna fare altre misure per le persone che sono in ingresso dalla Cina e Maraglino dice io non ho visto la mail, non l'ho aperta e quindi non mi sono presentato alla riunione, pensate un po' a che punto siamo, ma la cosa incredibile davvero è quello che fa Sandra Zampa, sottosegretario del Partito Democratico, che il 23 febbraio manda una mail al capo di gabinetto di Speranza, Goffredo Zaccardi, una figura interessante che si è dimessa a un certo punto, si è dimessa prima che il governo Draghi cadesse e tutto quanto, ed è l'uomo che al telefono chiede sostanzialmente, dice che bisogna lasciar morire il report di Francesco Zambon, ricorderete ne abbiamo accennato ieri, abbiamo avuto anche Zambon, Zambon è quello che fa questo report per l'OMS in cui critica la gestione iniziale della pandemia e spiega in quel report che noi non avevamo un piano pandemico, Zaccardi ne parla al telefono con Ranieri Guerra che era il diretto superiore di Zambon e dice vabbè se nessuno lo vede, nessuno ne parla, lasciamolo morire, facciamolo cadere nel dimenticatoio, sostanzialmente non ripubblichiamolo più, chiede di fatto una censura. Ebbene questo signore che è il capo di gabinetto di Speranza, cioè l'uomo che organizza un po' tutto, si scambia delle mail con l'allora sottosegretario del Partito Democratico, Sandra Zampa. Il 23 febbraio del 2020 la Zampa scrive a Zaccardi una cosa pesantissima, cioè parlano, commentano la situazione interna al Ministero e parlano di altri funzionari del Ministero e la Zampa gli dice penso sia evidente che da Ruocco in giù, cioè da questo signore che è uno dei dirigenti, anche lui credo che sia fra i protagonisti, poi Ruocco fu preso di mira anche da Sileri, Illo Tempore, una specie di enorme serie televisiva, una sopopera con tutti questi personaggi, comunque la Zampa parlando col capo di gabinetto di Speranza dice penso che sia evidente che da Ruocco in giù i nostri non sono stati all'altezza, che è una cosa incredibile se letta oggi, cioè una sottosegretaria che peraltro è andata molto in giro negli anni a dire noi abbiamo fatto tutto il possibile, siamo stati migliori, poi dopo si scambiava le mail con l'assistente di Speranza per dire questi sono degli incapaci, non hanno fatto bene il loro lavoro e ancora la stessa Zampa scrive tempo dopo a Zaccardi di nuovo, gli dice io sono molto perplessa sul giudizio, nel giudizio sull'Istituto Superiore di Sanità, come si fa a passare da abbiamo tutto sotto controllo a tra 15 giorni esplode tutto, sembra gente che capisce qualcosa quando gli arriva i dati, cioè quando è tardi, se questa gente non fornisce previsioni con almeno 2-3 settimane di anticipo, a cosa serve? Ecco questa è veramente una cosa incredibile, sapete perché? Perché loro stessi, come abbiamo sempre sospettato, si rendevano conto che gli esperti di cui si erano circondati, la gente non era all'altezza, non erano capaci di gestire questa emergenza, eppure hanno continuato per 3 anni e mezzo a raccontarci e ancora oggi continuano, vediamo la stampa, ancora oggi continuano a dire abbiamo fatto tutto il possibile, siamo stati migliori. Sulla stampa, in prima pagina ovviamente il titolo è sui migranti, il titolone centrale, poi ne parleremo nella parte successiva, ma c'è lo sfogo di Roberto Speranza, vedete c'è il titolo con le accuse dei PM agli indagati, indagati a Bergamo e a Roma, perché questa inchiesta è stata divisa in due parti, Covid, si potevano evitare almeno 4 mila morti, io su questo, sui numeri così precisi anche dico la verità o dei dubbi, però la cosa che mi interessa di più, vedete lo sfogo di Speranza, ho la coscienza pulita, dice questo retroscena Niccolò Carratelli, insomma sostanzialmente Speranza come si fa in questi casi, ha affidato alcune dichiarazioni e retroscinizia dalla stampa, dice a pagina 9 l'amarezza di Speranza, le accuse fanno male da ministro, ho dato tutto e dice ancora Speranza ribadisce, ribadisce di avere fatto tutto il possibile, di avere piena fiducia dalla magistratura, poi spiega, ho sempre pensato che chiunque abbia avuto responsabilità nella gestione della pandemia debba essere pronto a renderne conto, lui ne ha avute molte, dice noi ci siamo mossi in due anni di emergenza Covid come se fossimo al buio, in realtà no, non vi siete mossi come se fosse, o meglio sì, vi siete mossi al buio, avete preso misure di cieca, di sperazione, come disse Walter Ricciardi, di consulente di Speranza, ma perché? Perché le persone non erano all'altezza, perché il nostro sistema sanitario non era all'altezza, perché non sono state prese le misure che dovevano essere prese, non c'era un piano pandemico aggiornato, non erano state fatte tutte le cose previste da quel piano, tra cui il calcolo delle terapie intensive, il calcolo dei posti letto disponibili, e quando tu non hai un calcolo di questo tipo, come fai a curare le persone? come fai a capire come ti devi muovere, quando eventualmente devi chiudere? Il piano pandemico, lo abbiamo un po' spiegato anche ieri, serve a questo, è un piano che va provato, bisogna fare delle esercitazioni, e ti dice, è diviso in fasi, e queste fasi ti spiegano che cosa devi fare, a seconda della situazione, quindi se sei in una fase pre-pandemica, devi cominciare a controllare gli ospedali, se sono pronti, vedere che materiale c'è, se ci sono i respiratori, se ci sono le terapie intensive, quanti medici ci sono a disposizione, chi è che si occupa della raccolta dei dati, quando arriva la pandemia, ci sono una serie di cose da fare, tra queste cose, in casi estremi sono previste anche le chiusure, ma non come quelle che abbiamo fatto noi, il piano serve esattamente a evitare la chiusura generalizzata, serve a dire, c'è quel particolare paese, paesino, questo vale per tutte le malattie, non solo per il Covid, che poi era una cosa particolare, però vale per tutti, se domani arriva un altro virus molto più mortale, dice allora chiudiamo prima quel paesino, quella città, per evitare poi di chiudere tutta la nazione, invece lì non si è fatto questo, poi si è chiusa indiscriminatamente tutta l'Italia, e questa è una cosa che fa abbastanza arrabbiare, così come fanno arrabbiare dichiarazioni che sono anche su altri giornali, di Giuseppe Conte, che dice noi abbiamo navigato a vista, non sapevamo, non avevamo, questo è il virgolettato, non avevamo un manuale di istruzioni, di nuovo ce l'avevate, e come il manuale di istruzioni, che era questo piano pandemico, il problema è che non lo avete applicato, e siete andati a naso, e poi successivamente ne avete approfittato, per fare i vostri comodi, e questa è la cosa secondo me oggi, su cui veramente bisogna fare chiarezza, bisogna fare giustizia.